Bene, allora, questa è la versione lievemente aggiornata del tema d'esame di settembre, levemente aggiornata perché il corso in inglese ha già avuto la video chat, questa video chat, e quindi incorpora già alcune domande che arrivano da appunto quel corso. Brevemente, l'esame prevede la creazione di un'applicazione web per la gestione, diciamo così, dei gruppi di studio per studenti universitari, quindi esiste una cosa che è appunto un gruppo di studio, che è un insieme di studenti che decide di studiare insieme per un determinato esame universitario, un gruppo di studio è caratterizzato dall'informazione che riguarda il corso, codice, nome e crediti, e questa informazione deve essere fornita in fase di creazione del gruppo di studio, non è previsto, non è necessario avere alcuna informazione preinserita nell'applicazione riguardo ai corsi, quindi non è che deve selezionare un corso esistente per creare un gruppo di studio, ma semplicemente inserisce le informazioni al momento in cui crea un gruppo di studio. Oltre alle informazioni riguardo il corso, c'è ovviamente una lista di studenti che partecipano al gruppo, è un calendario di incontri passati e futuri di questi appunto per studiare. Ogni corso però può avere al massimo un gruppo di studio, quindi non possono esserci più gruppi di studio per corsi, e ha un colore associato, e questo colore è univoco per il gruppo di studio. E questo colore deve essere poi usato ogni volta che l'applicazione mostrere informazioni associate al gruppo di studio, quindi nei vari ruoli, nelle varie opzioni, nelle varie funzionalità, ci deve essere al fianco o da qualche parte, insomma, associato a questo gruppo di studio, anche il colore che è stato inserito, definito all'inizio, appunto, alla creazione del gruppo di studio. Tutti gli utenti del sistema hanno un ruolo studente, che è questo ruolo indicato qui in fondo, in cui lo studente può vedere la lista di tutti i gruppi di studio, chiedere di partecipare a un gruppo di studio, e con un meccanismo di approvazione della richiesta, che sarà approvata da un amministratore del gruppo che ha un altro ruolo, vedere la lista degli incontri futuri per tutti i gruppi di studio a cui partecipa, quindi per cui ha una partecipazione accettata, e tutti gli incontri devono essere mostrati nella stessa tabella, lista, eccetera, usando i colori corretti per identificare il gruppo di studio. E poi può anche registrarsi per un incontro futuro per un gruppo di studio a cui partecipa, o cancellare la registrazione per un incontro a cui ovviamente si è registrato. Quindi tutti sono studenti, in aggiunta agli studenti, e questa è una modifica che abbiamo fatto dopo la video chart inglese, per corso in inglese, perché mi sembrava abbastanza lungo e complicato, non tanto lungo e complicato, ma ci sono molti dettagli da fare attenzione in questo tema d'esame, non è difficile, non è complicato da realizzare, ma ci sono molti dettagli, molti punti di attenzione, su cui appunto fare attenzione, tenere in considerazione, quindi questa è una funzionalità che c'era nella versione precedente, precedente che abbiamo tolto. Quindi tutti hanno un ruolo studente e poi alcuni possono avere anche dei ruoli extra. Quindi qualcuno può essere amministratore generale e qualcuno sarà amministratore di gruppo. Uno più amministratori generali possono esistere, uno più amministratori di gruppi. E poi ci sono gli studenti normali, che non sono né amministratori generali né amministratori di gruppi, ma alcuni studenti, e questo lo ripeto, possono anche essere amministratori di gruppi oppure amministratori generali. E poi l'amministratore generale ha le sue funzionalità, essendo generale, vedrà la lista di tutti i gruppi di studio, vedrà le informazioni di un gruppo di studio, potrà crearne uno nuovo, potrà cancellarlo, eccetera. E un utente con ruolo di amministratore di gruppo, invece, potrà vedere la lista che può amministrare, i suoi membri, definire gli incontri futuri, vedere la lista di studenti del gruppo di studio a cui amministra, e approvare le richieste, appunto, di partecipare, e anche rimuovere, se ci fosse bisogno, uno studente da un gruppo di studio. E poi ci sono i requisiti, che sono sempre più o meno gli stessi, del solito. Il database, ovviamente, è diverso dal solito, perché il tema d'esame è diverso, e deve essere precaricato con almeno cinque utenti e due gruppi di studio, in cui abbiamo l'utente uno, che è un amministratore generale, ed è ovviamente anche studente, perché tutti sono studenti. L'utente due, che è sia amministratore generale che amministratore di gruppo per uno dei due gruppi di studio che è richiesto di creare. L'utente tre, che è anche lui amministratore di gruppo per quello stesso gruppo di studio, ma è anche amministratore di gruppo per un altro gruppo di studio, oltre a essere studente. L'utente quattro, che è amministratore di gruppo solo di un gruppo, del gruppo B, del secondo, che è chiesto di creare, non importa poi il nome che si sceglie da dare a questo gruppo di studio, e l'utente cinque, che è invece uno studente semplice, e quindi magari sarà iscritto a qualche gruppo di studio, a sua scelta, a uno di questi due gruppi di studio, a uno solo, entrambi, come si preferisce. Quindi questa è la versione, diciamo, un pochino più aggiornata rispetto a quello che c'è online del tema d'esame. Domande? Ok, professore. Mi sente? Sì. Ok, allora volevo sapere, ma c'è un limite di studenti che si può iscrivere a un gruppo di studio, o un limite di gruppo di studio a cui può essere iscritto uno studente? Oppure no? Direi di no. Ok. Nel tema d'esame non c'è, in realtà non è una... come dire, è più facile, no? In un certo senso, se non c'è un limite, perché ci può essere... Ecco, l'unico limite, se vuoi, che c'è, è che... ci sono tanti gruppi di studio quanti corsi possono essere offerti, no? Alla fine. Sì, ok. Però no, non c'è un limite. Ok, grazie. Ah, professore, volevo anche sapere, il colore unico, c'è scritto, cioè c'è scritto che ci deve essere un colore unico per un gruppo di studio. Ma nel senso, cioè, ci deve essere una lista di colori già pronti, oppure proprio un colore qualsiasi, e quindi... Entrambe le opzioni, secondo me, sono valide. Perché se ci sono... In un studio, puoi autogenerare un colore, facendo attenzione a generare un colore che è diverso da quelli già generati, oppure far scegliere all'utente un colore, però escludendo i colori che sono già in uso. Ok. No, perché immaginavo se ci sono dei colori già pronti, magari non ne sono abbastanza, non sono sufficienti per tutti i gruppi di studio, e quindi... Beh, tu conta che, sì, i colori sono sufficienti, perché i colori che, almeno penso che siano sufficienti, insomma, i colori che sono a disposizione, no, nel CSS, per il web, per renderizzare con il CSS sono abbastanza, diciamo così, perché ci sono le varie sfumature, c'è il verde, il verde chiaro, il verde scuro, il verde un po' più scuro, quindi volendo ce ne sono abbastanza. Conta che tu alla fine devi consegnare, diciamo così, almeno due gruppi di studio, quindi poi noi durante la correzione ne creeremo magari ancora un paio, ecco, per provare, però, ecco, non immagino che nessuno si metta lì a creare 27 gruppi di studio diversi per provare se tutti i 27 colori diventano... No, quindi non stare per dire, non stare in paio di dire... L'importante è che ci sia un colore, questo colore sia univoco, quindi se tu hai un gruppo di studio rosso, un gruppo di studio verde, se viene creato un altro gruppo di studio, ecco, questo gruppo di studio non deve avere né lo stesso rosso né lo stesso verde dei due gruppi già creati. Poi, che questo sia un'assegnazione automatica o sia una cosa che l'utente, a cui l'utente appunto gli viene chiesto scegli il colore che preferisci e si esclude però i colori che sono già utilizzati e è appunto una scelta tua. D'accordo, grazie. Niente. Ok, allora, se non hai altre domande, visto che non si è collegato nessuno, io direi che possiamo chiudere qui e adesso questa versione la finalizziamo anche con con eventuali domande, se ci sono, dall'altra video chat dell'altro pezzo del corso in italiano che è in parallelo a noi, che dovrebbe essere in parallelo a noi e poi la pubblico sul sito la versione finale che può servire appunto per poi lavorare e consegnarla entro il 7 settembre a fine giornata. Ok, in ogni caso se poi ci sono altre domande puoi scriverle sia tu che sei collegato adesso sia chi eventualmente guarda il video sul canale su Slack e poi lì ci saranno le risposte anche. Va bene, allora buona giornata. Buona giornata.